Anche quest'anno torna l'appuntamento con la solidarietà pasquale rivolta all'Associazione Italiana contro le leucemie. Dato il particolare periodo, la classica distribuzione delle uova dell'AIL non verrà effettuata nelle piazze. Le donazioni per sostenere la ricerca scientifica potranno comunque essere fatte a partire da venerdì 19. Anche quest'anno è arrivato il momento delle uova pasquali per la raccolta a fondo dell'AIL, Associazione Italiana contro le leucemie. Purtroppo con il discorso del virus noi non siamo nelle piazze perché purtroppo la gente non gira, siamo nei centri commerciali. Come abbiamo fatto a Natale con le stelle, altrettanto facciamo con le uova. Il 19, 20, 21 nei supermercati di tutta la provincia. Siamo nei supermercati Famila, l'emisfero, il canguro. Uno entra nel sito dell'AIL e vede dove siamo. Si calcola che ogni anno 33.000 persone ricevono una diagnosi di tumore del sangue. Anche il 2021 non fa differenza poiché, commenta l'Associazione, le leucemie, i linfomi e il mieloma non vanno in lockdown. L'acquisto delle uova servirà a sostenere 221 progetti di ricerca in tutta Italia, finanziare le cure domiciliari per adulti e bambini e dare nuova linfa al costante impegno di medici e volontari. Come tutti gli anni siamo pronti anche quest'anno, nel 2021, a dare quello che gli ospedali nostri, Belluno e Feltre, hanno bisogno. In particolar modo l'aiuto alle nostre famiglie, che sono tre macchine che girano la provincia. Sono 28 anni che giriamo e sono 28 anni che doniamo col cuore tutto quello che raccogliamo rimane in questa provincia.